Ogni volta che gioco in un'altra versione e poi apro minecraft 1.16 sembra praticamente che mi abbiano resettato la resource pack, che fastidio guarda. Bene, adesso siamo a posto. Comunque oggi volevo lavorare ad un progettino, se vedete che ho l'inventario pieno di stone è perché dovremmo lavorare proprio a questo tipo di progetto. Bene, in camera ho formato un bolt a stone, adesso l'ho cotta tutta praticamente, me ne è rimasta 21 grezza. Che cosa volevo fare oggi? Volevo semplicemente iniziare a buttare giù le prime forme per la mia nuova casa, perché non pensate che io mi faccia una serie intera lì. Qui ci sono le pecore che abbiamo utilizzato per farmare l'anederite, quindi direi di raccogliere ancora una volta la loro lana. E adesso dobbiamo trovare un posto disperso nella giungla in cui fare la nostra casa, possibilmente abbastanza vicino. Sarebbe molto carino avere tipo un tempio da modificare, perché non voglio creare un cubo di stone o di stone bricks in mezzo alla montagna, in mezzo alla giungla oppure dentro qualche montagna. Voglio proprio, non lo so, che magari sia sottoterra, ci può stare, non lo so, devo vedere se riesco a trovare qualcosa di abbastanza vicino. Dobbiamo un attimo girare la giungla, quindi vediamo un attimo. Madonna, guarda che ho trovato qui, ho trovato praticamente l'anederite, l'anederite con il portale e bel po' di roba. Bene, qui c'è anche un pezzo d'oro. Alla fine la zona che ho scelto non è proprio un tempio, ma è qui sotto. Cosa voglio fare praticamente? Allora, intanto iniziamo a trasformare tutta questa stone in stone bricks, perché non penso di utilizzarla sotto forma di stone. Bene, adesso devo buttarmi circa. Intanto dobbiamo creare una specie di contorno e nella giungla sarà molto difficile riconoscerlo, quindi so già che sclererò tantissimo. Intanto creiamo un contorno. Ma chi me lo ha fatto fare? Comunque uno, due, tre... Tecnicamente adesso basta! Facendo una linea dritta di 25 blocchi dovremmo ricollegarci, se abbiamo fatto bene i conti ma non penso, visto che sta giungla non si capisce assolutamente nulla quando cerchi di piazzare dei blocchi, dovremmo tecnicamente ricollegarci all'altra linea. Con bacia? Sì, con bacia. Con bacia con questo albero che purtroppo dovrò abbattere. Siamo riusciti a fare un contorno di 25x25. Può sembrare poco, ma creare tutto quello che c'è dentro secondo me non sarà affatto facile. Voglio creare una specie di tempio della giungla moderno, ok? A posto del solito tempietto fatto di cobblestone e ste robe del genere, voglio farlo moderno con i bambù e robe del genere. Forse magari un retro stile maia ci potrebbe anche stare. Ok, adesso dovremmo circa iniziare ad alzare la struttura. Iniziamo a dare qualche blocco, di creare un contorno leggermente più alto del normale, perché sennò ti perdi anche la struttura per quanto è fitta la giungla. Non potevo costruire in una pianura bella, lineare, semplice. Ovviamente nella giungla in cui non si capisce niente quando costruisci. Partiremo ovviamente da questo quadratone, poi finalmente arrivare a una forma. Partiamo da questo quadratone e poi lo andiamo leggermente a modellare. Praticamente finito gli stone bricks ma si inizia ovviamente finalmente ad intravedere almeno la forma della struttura, perché prima veramente non si notava nulla. Dovrebbe essere altra stone nelle fornaci, almeno spero. Il massimo dobbiamo andare a farmare. Comunque non è né troppo grande né troppo piccolo. Ritiro tutto, qui non c'è assolutamente più nulla di stone. L'unica stone che ho adesso è forse 21 pezzi. E la cosa che conviene più da fare è prendere sti picconi in ferro, questi lapislazzoli. Mi incanto efficienza 1. Finisci efficienza 1 con efficienza 1 e mi fai efficienza 2. Altri 4 picconi in ferro. Lo so che è uno spreco raga ma non ho voglia di scavare lentamente, quindi facciamolo e basta. Efficienza 1, efficienza 1, efficienza 2. Ok, sono stato in miniera. Non ho raccolto praticamente nessun materiale se non uno di oro o qualche di ferro. E questo qui è il risultato. Sono pieno di cobblestone, di carbone, ho trovato ma nulla di che. Ho perso praticamente tutti i picconi, quindi sì. E basta, cerchiamo di cuocere questa stone. A parte che questa casa è diventata per l'80% da fornaci, dovrebbe aver finito tutto. E adesso dobbiamo ovviamente pulire l'interno delle mura. Tanto iniziamo a togliere un pochettino di foglie e poi dobbiamo togliere i tronchi. Oggi sono un cavolo di giardiniere, guarda. Ah, non mi pagano abbastanza per fare questo lavoro. In realtà non mi pagano proprio. E questo qui è bene o male il risultato finale. Questi due alberi, visto che sono abbastanza alti, ho deciso di lasciarli. Anche perché il tempio sarà fatto con i altombrix, con le liane per esempio. Proprio immerso nella natura, quindi ci può stare che un albero cresca dentro e magari sfondi tutto il tempio. Quindi non lo so. Boh, almeno per il momento la penso così. Sì, dovrei un attimo andare a svuotarmi l'inventario. E sono indeciso se terraformare qui dentro. La rostrano io, ma ogni tanto compaiono sullo schermo dei quadrati neri. E non capisco cosa siano, ma penso sia colpa dello snapshot e non mio. Anche perché su altri giochi non ho problemi. Cioè che ieri ho fatto una speedrun fino a 8 orari su Outlast. Quindi, boh, non lo so. Ok, qui abbiamo fatto. Buttiamo via l'ultimo pezzi di cobblestone. E questo qui è bene il risultato. Prendiamo adesso il legno di giungla. Lo sformiamo in slab perché non abbiamo materiali da perdere. Iniziamo a fare il pavimento. La mia idea era appunto, come vi ho già detto penso, creare una specie di tempio del deserto. Del deserto. Tempio della giungla molto più in grande. Con una via di mezzo tra legno della giungla e stone bricks. Perché? Perché gli stone bricks puoi mettergli le liane. Così da creare una bella vanilla tutta tra il verde e il grigio. Ripeto, non è che è un verde acceso come quello per esempio dei miei cuori, che è più un giallo. Ok? È un verde spento. Aspetta, questo verde l'ho fatto sia perché nella giungla ci sta molto bene. Cioè, guardate il colore mi sembra perfetto. E sia per completare tutti i colori dei legni di Minecraft. Infatti, se adesso controllate, grazie ai legni del nether, che ci sono quelli blu e quelli gentali, possiamo chiamare così, viola. Adesso abbiamo i legni, praticamente blu, magenta e verde. Quindi siamo praticamente a posto. Bene, fatto. L'effetto che fa è molto carino e mi piace. Ovviamente andiamo ad aggiustare anche le pareti dove si vedono queste brutte robe. Allora, la prossima cosa che voglio fare è togliere gli angoli in questo modo. Che cosa andrà a fare? Sfruttare praticamente il legno della giungla. Però ovviamente non lasciarlo così, ma scortecciarlo. E la stessa cosa facciamo per tutti gli angoli. Mi si sta per rompere il piccone. Spero di non romperlo. 43 utilizzi. Spero di non romperlo perché lo voglio tenere come ricordo del primo piccone in diamante della serie. Serie che potrebbe finire anche domani, ripeto. Però, ehi, è sempre bello avere un ricordo. Che la serie finisca domani o fra cent'anni. E questo qui è l'ultimo. Ti prego, piccone reggi. Ma mi stanno spawnando i mob dentro casa. Ma come possib... Oh, cavolo. Salve, signor scheletro. Non mi sciottino. Allora, adesso ho fatto un contorno di legno. E adesso che cosa devo fare? Devo andare ad aggiungere degli altri pilastri. E cinque. Ok, bene. Facciamolo da tutti e quattro i lati. Qui lo alziamo fino alla fine. Nel frattempo lì dobbiamo aspettare che arrivi la terra. Dai, non sta avvenendo male, effettivamente. Dai. Ok, dai, non sta avvenendo male. Ovviamente per il momento è un risultato abbozzato. Soprattutto perché dobbiamo aspettare che lì cresca per togliere sta scala. Dobbiamo cambiare molti stone bricks. Dobbiamo aggiungere le trapdoor. Dobbiamo aggiungere, che ne so, nel muro delle scale per cercare di creare più tridimensionalità. C'è molta roba da fare. Ma che bello qui sotto, eh? Ma che ca... Vabbè, l'avete visto anche voi, eh? Mi ha droppato un disco musicale. Eh, ma sono rarissimi, li hai citati, sì? L'hai visto che è cheating? Bene, adesso devo fare i piani. Allora, sono andato avanti e adesso vi mostro il risultato finale. Direi che non è affatto male, c'è ancora molto da fare. Penso che lì farò una specie di mini tetto, non lo so, devo ancora decidere. Ma devo dire che l'aspetto che ha per il momento mi piace molto. Ho fatto queste specie di finestre e ho smussato un pochettino le pareti con la tecnica di creare gli slab verticali attraverso il muretto di stone brick wall. Ossia uno, due, facendo così diventa praticamente una specie di slab verticale. E secondo me è molto figo e quindi ci stava. Io ho fatto delle finestre chiuse, alcune aperte, tutta la scalinata e la porta di uno. Questa l'erba l'ho fatta crescere, alcune finestre sono aperte, altre sono chiuse. Qui dentro è ancora leggermente buio, infatti direi di non entrare perché se mi griffano la casa appena costruita, sclero. Sto registrando veramente da un botto, quindi nulla. Direi che per oggi ci fermiamo qui. Volevo minima arrivare a questa forma per metterla in copertina. E nulla, per oggi ci fermiamo qui. La prossima volta inizieremo ad addobbare dentro. Ovviamente ho cambiato, come vedete, i pilastri. E li ho fatti di questo legno perché così si vede sia il legno verde, qui nelle scale, in queste robe qui, nelle trapdoor, sia questo legno e soprattutto perché dentro dava fastidio vedere il pavimento uguale alle travi. Invece così ci sta molto bene, secondo me. Bisogna ancora aggiungere l'illuminazione, la faremo probabilmente con le lanterne. Ma come ho già detto 45 volte, per oggi ci fermiamo qui. Ok? Nulla, fare lo screenshot e basta. Fatto. Fatto.